Bene ragazzi, benvenuti finalmente in questo primo episodio di questa nuova serie che mi avete chiesto in tantissimi, mi state continuando a chiedervi in tantissimi E finalmente ve l'ho promessa durante la scorsa puntata, quindi l'ultima puntata di I am Herobrine e siamo qui oggi con il mondo di Enti303 Raga, io non perderei tempo e cliccherei il tasto mi piace perché questo inizio è qualcosa di incredibile Ci riusciamo ad arrivare a 10.000 mi piace? È difficile ma conto su di voi Comunque non vi rubo altro tempo e vai subito con la sigla Ok raga, siamo nel menu principale e stiamo per creare il nostro mondo, quello che sarà il mondo di Enti303 Allora siamo pronti raga, devo spiegarvi un sacco di cose ma vi spiegherò nel mondo Ora dobbiamo andare a scrivere il mondo di Enti303 Survival e dobbiamo mettere la bonus chest che è molto importante, poi scoprirete perché Create new world Raga, stiamo entrando Ok, sta caricando il mondo, ci siamo Eccoci, siamo finalmente, sta generando il mondo piano piano all'interno del mondo di Enti303 Per ora è ancora tutto, tutto normale, perché? Perché come vi ho detto prima La chest è molto, molto importante, a parte che sto cresciute così, due dorce molto, molto male Ma questa chest è molto, molto importante, perché? Perché al suo interno, oltre a del legno che non ce ne prega niente Altro legno di cui ora non ce ne prega niente, legno, legno, stick, piccone molto utile, stone axe, wooden pickaxe e pane Abbiamo quattro blocchi che sono fondamentali per creare il totem, quindi l'altare di Entity Allora, abbiamo ben uno e due blocchi di oro, una netherrack e l'entity altar Raga, siamo veramente in un momento importante E ovviamente devo spiegarvi un sacco, un sacco, un sacco di cose Allora, cosa devo spiegarvi? Devo spiegarvi che questa mod non è una mod esistente che potete scaricare Purtroppo, per voi insomma, non per altro È una mod che è stata creata appositamente per questa serie E intanto c'è un villaggio così random e noi ci andiamo a prendere delle cose Perché se troviamo quello che ci interessa ora, raga, siamo veramente Siamo già davanti ad Entity, l'abbiamo già ucciso, raga Comunque, stavo dicendo, è una mod creata apposta per questa serie Perché l'unica mod di Entity che esiste è praticamente inutile e non fa praticamente niente Quindi è una mod molto particolare, molto simile C'è il fabbro, c'è il fabbro, c'è il fabbro Non c'è il fabbro, no, è un mazzo, è proprio piccolo Vabbè, ci rubiamo il cibo È molto, molto simile, stavo dicendo, a quella del mondo di Aerobrine Ma non per quello che succederà, ma proprio come è strutturata la mod E quindi niente, speriamo, speriamo bene Allora, come vedete, la creazione dell'altare è molto, molto simile Abbiamo due blocchi d'oro, un blocco di nether e l'altare che nella scorsa serie era quello di Aerobrine E in questa serie è quello di Entity Però per attivarlo, purtroppo, non abbiamo il flint e steel E quindi, oltre a un po' di cibo che dobbiamo mangiare perché altrimenti non vediamo un casino Oh, ma c'è il fabbro, raga, ma sto con un ciecato assurdo Ma come ho fatto a non vederlo? Ma dov'ero? Ma dov'ero? Ok, c'è il fabbro, niente, raga, magari troviamo il ferro Comunque stavo dicendo, per attivare il portale mi serve il flint e steel, mi serve l'acciarino E l'unico modo è un pezzo di flint e un pezzo di ferro Vediamo un po' se c'è qualcosa qui, no Mentre qua se c'è il ferro c'è l'oro, va bene Un po' di mele e un po' di pane, va bene, va bene, va bene Stavo dicendo, mi serve un flint e steel, quindi un pezzo di selce e un pezzo di ferro Per poter creare l'acciarino, il nostro magico acciarino, che ci permetterà di accendere il portale So per certo che questa mod ci darà veramente il filo da torcere Perché? Perché mentre nella scorsa mod c'erano tante missioni da fare e cose da fare In questa mod ci sarà entity che verrà a romperci, verrà a ucciderci, verrà a colpirci, spawnerà i suoi scagnozzi e tutto Mentre noi staremo tranquillamente scavando, quindi ora dovrei anche stare attento Ma non devo stare attento perché ancora non attivo il portale, quindi siamo ancora in tempo Ok, vi giuro raga, sono troppo contento di potervi portare questa mod Ci ho messo un po' a portarvela, non ve l'ho portata subito perché appunto Non essendoci una mod di entity decento, abbiamo dovuto crearla E di questo ne sono più che contento, soprattutto perché c'è il ferro E a noi ce ne basta uno, una sezione di più, non è che ci dispiace, possiamo farci, vabbè, due basta Non proprio, però potremmo farci anche una spada per iniziare a difenderci da entity Visto che quando creeremo l'altare ci verrà a uccidere malamente Raga, vi giuro sarà molto, molto, molto più difficile del mondo di Aerobrine Quando attiveremo quel portale tutto cambierà, tutto diventerà tema entity E tutti ci attaccheranno e succederanno, ma ok, va bene, andiamoci via, ci serve un pezzo di selce Ovviamente faremo anche la nostra bellissima casa Andremo anche a scavare, sempre con il timore che ci sia entity da qualche parte Però ovviamente continueremo ad affrontarlo con tutto il coraggio e la vivacità che ci distingue nel mondo dei Pokémon Che non ha senso quello che ho appena detto, però faceva ridere, no, neanche, faceva schifo Mettendo un like, bello E raga, mentre vado al volo in cerca di Flint, volevo dirvi una cosa L'ho detto nel video di ieri, o nel video di domani, o comunque da qualche parte l'avrò detto Però lo dico anche oggi Sarò al Games Week di Milano e al Romics a Roma Quindi per chi vuole, vuole venire a incontrarmi per un saluto, per qualsiasi cosa Ci sono sabato e domenica ad entrambe le fiere E in entrambe le fiere proverò a portare le magliette Al Romics è sicuro al 100% che ci sono le magliette Mentre al Games Week al 99% perché ancora non la conferma Comunque se vi state chiedendo che magliette sono Ci saranno sia le magliette di Aerobrine non esiste Raga, troviamo un nome per Entity in questa serie Entitino è un po' bruttino Cos'è? Sono caccato in mano, ma gli occhi bianchi? Ah no, ok, no, se no il gio è Aerobrine pure qua, basta Cioè, basta, Entity, basta, Aerobrine La picchiamo con un'ascia Ok, è morta, benissimo Comunque stavo dicendo, ci saranno le magliette di Aerobrine non esiste Troviamo anche un nome ad Entity perché poverino poi come fa? Senza nome, poveretto Abbiamo preso la serie, cioè sì, ce l'abbiamo Ce l'abbiamo raga, ok Perché altrimenti poi sta dicendo poverino, Entity come fa? Senza nome Ah, e per tutti quelli che adesso inizieranno a scrivere Matteo, ma Entity non esiste Aerobrine non esiste È una mod È fatto apposta per intrattenere, per giocare, per divertirci insieme Oltre appunto alle magliette di Aerobrine non esiste Ci sarà un'altra sorpresa Che sono le magliette di Entity Raga, è una cosa che ho ottenuto segretta fino ad adesso Però, ormai che stiamo vicini alle fiere, devo dirvelo Anche perché abbiamo iniziato questa fantastica serie E su Instagram, proprio adesso, mentre sto registrando questo video Tipo poco fa, ho caricato uno spoiler della maglietta Quindi se siete interessati, andate a vedere su Instagram delle storie Comunque raga, siamo pronti Abbiamo tutto il necessario per poter creare l'altare di Entity Solamente bisogna pensare a dove crearlo Visto che dovremmo anche creare una casa Possibilmente nelle vicinanze dell'altare Perché se dobbiamo andare a spegnerlo per qualche motivo, ecco Dobbiamo essere più vicini e fare più in fretta possibile Direi che qua forse, non so, ci può stare una casa No raga, la casa nella montagna anche in questa serie No, la neve no, la neve no Qua sopra, qua sopra mi piace Qua sopra mi piace C'è questa piccola collinetta E la casa, cioè, può benissimo essere anche lì sopra O qui nelle vicinanze Insomma, qui sopra mi piace Raga, possiamo creare finalmente Finalmente, ora che sta diventando notte Quindi proprio il momento meno adatto del mondo L'altare di Entity Andiamo a prendere i nostri blocchi che ci servono E andiamo subito, subito a creare una fornace per cuocere il ferro Ok, eccola Qui la nostra bellissima fornace La mettiamo qua insieme al carbone E ce ne va a mettere i nostri due di ferro E raga, siamo pronti per accenderlo Nel frattempo che si cuoce Io inizierei a costruire il nostro bellissimo altare totem Ci servono innanzitutto due blocchi d'oro Poi ci serve l'entity altar E infine un blocco netherrack Guardate com'è figo questo blocco Guardate quanto è figo E quando andremo ad accendere l'altare Gli occhi di Entity diventeranno rossi E il mondo cambierà completamente Ci sarà di tutto, vi giuro di tutto Ecco qua i nostri lingotti di ferro Andiamo a metterli No, quelle è oro Vabbè, ok Andiamo a metterli qui Ecco il nostro flint e steel Possiamo crearci un piccolo ponticello Per accenderlo Pa! Raga, gli occhi di Entity sono diventati rossi Il portale è attivo Adesso bisogna solamente giocare Solamente andare avanti in questa fantastica e bellissima serie Stare attenti Prepararsi le armi Perché Entity è in agguato E sta per arrivare Ragazzi io per questo primo episodio In attesa di qualcosa un attimo Mi posiziono qui Mi guardo sempre le spalle Perché raga Può anche apparire dietro di noi dal nulla Quindi ho una paura Che non immaginate che mi appaia Ma va bene Allora Possiamo tutte le cose che abbiamo all'interno di questa chest E direi che per questo primo episodio Può essere tutto E' stato un episodio di introduzione Per farvi vedere un po' come funziona la mod Per spiegarvi un po' in cosa consisterà questa serie Oh mio dio Dobbiamo stare attenti Ho visto qualcosa che ha lampeggiato Spero di essermi sbagliato L'ho fatto anche la rima al cioccolato Raga, sono un poeta Quindi invito a lasciare un bellissimo mi piace per questa serie Già nella prossima puntata Accadrà di tutto Cioè Quindi da Matteoferetutto Io vi saluto Mi raccomando Passate da Instagram per vedere la maglietta Oppure per seguirmi Tranquillamente su Instagram Da Matteoferetutto Mi raccomando Iscrivetevi se ancora non foste iscritti Per non perdervi i prossimi video Di questa serie E anche di tutte quante altre serie bellissime Linea allo studio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti